Parole dure contro il degrado del centro città sono quelle utilizzate dal nuovo commissario prefettizio del comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, in occasione del suo insediamento. Carlo De Nittis. Era una città complicata. Venire al centro di Foggia, che era il centro dove si veniva a fare gli acquisti, e venirci oggi e vedere il corso così ridotto non è piacente. Così ha sottolineato il prefetto Vincenzo Cardellicchio, nuovo componente della commissione straordinaria del comune di Foggia, al posto della dimissionaria Marilisa Magno, presentandosi alla città accanto agli altri componenti della triade, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, a Foggia da maggio del 2021. Che cos'era la società foggiana, che cos'era la mafia di Cerignola, che cos'era quella dei montanari. Questo bagaglio di notizie, che oggi è diventato atti processuali, sono la garanzia di uno Stato che ha messo l'attenzione sulla città di Foggia, sulla provincia di Foggia. Una provincia che ha visto decapitata il suo territorio. E immagino con quanta sofferenza da parte dei cittadini per bene.